parliamone anche di questo certo stupido specchio ti odio io non devo girare i video veramente manco diciamo la visione sembra un'altra manco timidi christmas carl o tommy come si chiamava un assistente che è comunque molto lo quace si vede no non si vede però non ti si vede la gente non ti vede amore e di venire un po più vicino e lo so che vuoi stare con me però non riusciamo a dividerci così il canale devo fare un canale solo per parlare ci si vede che fai che annusi io questa cosa sembro malgioglio comunque che dici ti piaccio così in versione un po malgioglio un po ciottolino sì le piaccio allora sì questa versione perché praticamente questa versione da mickey mouse quando fa lo stregone in fantasia o in ci può si chiama cucciolo sì si chiamava cucciolo e questa versione un po maggio di malgioglio no è dovuta al fatto che in me dimora un'ottuagina e quindi sono lamentosa odio il caldo odio il freddo odio quando il cane gira i video volete girarli con me poi se ne va guardatemi tutta mia bellezza con dei piccoli batman qua questo pratico marocchi ciglia brava mamma che mi ha comprato questo mascara ora è cigliana che mi fa comunque vabbè appunto sto dicendo in me dimora un'ottuagina per cui ammiramento del caldo e del freddo continuamente e anche di questi capelli orribili ma vabbè lasciamo perdere diciamo che volevo fare questo video un po chiacchiericcio un po per dirvi diciamo i film le serie tv che ho visto in questo periodo appunto ve lo dico dal punto di vista di chi vede da spettatore non da studioso della materia ecco specifichiamo questa cosa perché se no giustamente chi è che studia viene a dirmi ma che sta lì a recensire non non recensisco dico soltanto la mia vi consiglio diciamo dei film che secondo me delle serie tv che secondo me potrebbero piacervi se seguite il mio canale avete i miei stessi gusti diciamo tra loro gialli storici vi consiglio due o tre cose che vi consiglio se vi piacciono i gialli di agatha christie è appunto l'adattamento cinematografico un libro di agatha christie che è testimone d'accusa dove appunto i protagonisti sono tyron power il padre di romina power e charles lawton che fa l'avvocato che difende appunto tyron power dall'accusa di omicidio di una vecchietta mi è piaciuto più questo film diretto da billy wilder del 57 piuttosto che la nuova il nuovo adattamento cinematografico che ha proposto sky con quell'attore che fa il serial killer non so se scherzando il serial killer che è in gioco di parole il serial killer in sherlock holmes o che ha fatto anche wayward pines dove fa lo psichiatra quell'attore diciamo che secondo me non ha interpretato proprio bene la parte dell'avvocato che difendeva l'imputato è interessante come si dipana la vicenda vi dico quel film vi consiglio di guardare il film del 1957 a parte perché ci sono degli attoroni allucinanti stiamo parlando di charles lawton tyron power stiamo parlando di marlene dietrich non riesco a pronunciarlo perdonatemi comunque c'è un cast allucinante ci sono state candidature per oscar al miglior film miglior attore protagonista eccetera la trama è basata sul fatto che tyron power in questo caso viene accusato dell'omicidio di una vecchietta lui ha il movente in quanto alla vecchietta l'anziana signora gli ha lasciato nel testamento tutti i suoi averi lui era un povero squattrinato e da qui praticamente viene accusato dell'omicidio dalla governante della della signora viene accusato di omicidio perché appunto c'è un movente all'epoca non esisteva a livello probatorio le prove scientifiche quelle antropologiche quelle biologiche diciamo che la ricostruzione era appunto di tipo abduttivo la stessa che faceva Sherlock Holmes si cercava il movente si cercavano dei si facevano dei ragionamenti delle diciamo inferenze investigative eccetera e poi più o meno si raggiungeva a un inferenza appunto a un ragionamento finale per cui secondo me tu avevi il movente il ti trovavi sul luogo del delitto non hai un alibi e così via è bello sia perché Charles Lawton interpreta l'avvocato cinico antipatico in modo meraviglioso mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto anche tyron power come interpreta la parte dell'imputato e potete anche vedere appunto dal punto di vista processuale come nel sistema di common law diciamo funziona diversamente rispetto al nostro sistema un esempio palese è il fatto che i giudici la vengono eletti sono persone che si hanno studiato diritto ma sono persone che vengono elette quindi sono sostanzialmente i politici non c'è questa diciamo equilibrio che dovrebbe esserci nel nostro sistema nel nostro ordinamento dove la politica e la giurisprudenza sono separati la non esiste perché i giudici vengono eletti e oltretutto si vede proprio il sistema della giuria ma del sistema della giuria ne parleremo poi in un altro film anche quello mi è piaciuto veramente tanto e questo film in particolare è incentrato sul principio del nebissinidem che il principio secondo il quale principio che vige anche in italia secondo cui tu non puoi essere accusato del medesimo fatto nel momento in cui la sentenza è passata in giudicato cosa vuol dire che se tu sei stato accusato di omicidio e ad esempio da noi abbiamo i tre gradi di giudizio in america ce ne sono due però poniamo il caso che vieni assolto o vieni considerato innocente non puoi essere giudicato un'altra volta per il medesimo fatto nonostante vengano trovate nuove prove ci siano nuove prove documentali filmati registrazioni tu non puoi essere giudicato per il medesimo fatto nel momento in cui è passata la sentenza si dice nel momento in cui la sentenza è passata ingiudicato è veramente un film bellissimo perché si va io non posso muovermi perché da da proprio fastidio questa idea di zoom comunque è un film bellissimo perché appunto si basa su questo principio giudiziario del nebissinidem e gioca su questa cosa stessa cosa su cui gioca anche poi il film il caso thomas crawford non so se l'avete visto è molto più recente centony hopkins che fa la parte dell'imputato e c'è un giovane ryan gosling che fa la parte dell'avvocato che deve appunto accusare diciamo si fa la parte dell'accusa diciamo quindi quel film è straconsigliato più che altro non soltanto perché fino alla fine voi non capite se terra un power colpevole innocente ma appunto proprio per l'interpretazione che viene data dai personaggi e anche perché capite un po come funziona dal punto di vista processuale di come funzionano certi diciamo certi sistemi che possono essere garantistici e come possono essere abusati dagli imputati o meno un altro film che ho visto è stato la parola giurati un film di sydney lumet e quel film diciamo è un po più pesante l'ho trovato un po più pesante però anche quello è stato diciamo tradotto in italiano come la parola giurati in realtà il vero titolo del film è cioè 12 angry man cioè 12 uomini arrabbiati no perché la giuria dovete sapere che in america se vengono scelti dall'accusa e se vengono scelti dalla difesa e poi si riuniscono in camera di consiglio e in teoria dovrebbero rimanere diciamo isolati finché non raggiungono un verdetto unanime non c'è una sentenza c'è un verdetto che è diverso e il tutto appunto è basato la trama si incentra su questi 12 uomini che devono giudicare un ragazzo che viene accusato di aver ucciso suo padre a coltellate 11 diciamo nel momento in cui inizia già il la riunione in camera di consiglio vedete che ci sono diversi personaggi che sono peculiari tra di loro noi giurati c'è quello che dice su sbrighiamo ci facciamo in fretta perché devo andarmi a vedere la partita di baseball tra due ore quello che dice guarda dichiariamolo subito colpevole perché le prove che ci hanno fornito sono assolutamente diciamo inattaccabili inconfutabili e poi invece c'è soltanto uno tra questi che dice per me è innocente e tutta appunto la vicenda si sviluppa nel momento in cui viene chiesto il perché lui ritiene che questo che questo giovane ragazzo sia innocente e quindi man mano lui inizia a dire io non so se sia colpevole o innocente questa persona però dice visto che nel momento in cui noi siamo in girato negli anni 60 nel momento in cui noi lo dichiariamo colpevole e dichiariamo colpevole un ragazzo di un omicidio e la pena è la pena di morte io non riesco con leggerezza a non valutare tutte le prove quindi man mano inizia a far sorgere il cosiddetto ragionevole dubbio che è un'altra cosa di cui si parla tanto a livello processuale ma non si capisce tanto cosa vuol dire questo ragionevole dubbio che nel 2006 è stato introdotto anche nel nostro ordinamento il cosiddetto metodo bard in inghilterra e in america viene chiamato così sistema bard vuol dire che tu non sei certo al 100 per cento di questa cosa e ti sorge il dubbio se ti sorge il dubbio allora vuol dire che probabilmente quel sospettato l'imputato potrebbe essere innocente quindi tutta la vicenda si sviluppa su questo unico uomo che man mano vedrete come riuscirà forse a convincere qualche qualche giurato e qualche altro invece no della non colpevolezza di questo di questo imputato di questo ragazzo quello che è interessante notare è che all'epoca appunto ripeto le prove testimoniali l'unica prova diciamo a livello vabbè provatorio l'unica prova che era importante all'epoca che valeva qualcosa era la testimonianza quindi diciamo che il testimone poteva non essere sincero poteva dire la verità ma in realtà averla travisata aver travisato magari quello che aveva visto frainteso quello che non aveva visto quindi tutta la vicenda si sviluppa su questo dura un'oretta di film però se volete guardarlo è veramente molto molto carino soprattutto perché questi uomini cioè tra di loro si scontrano c'è un contraddittorio verbale abbastanza fuori diciamo sembra quasi un contraddittorio a livello processuale però è bello come si vede la differenza tra un sistema di common law quello statunitense e il sistema civil law il nostro dove appunto ci sono le sentenze messe da un giudice che deve aver fatto tutto un percorso di studi per poter essere diventato magistrato non inquirente ma magistrato giudicante la differenza invece del giudice statunitense che può essere stato anche un magistrato inquirente quindi può essere anche stato un PM diciamo un pubblico ministero può essere stato anche un procuratore che poi è stato eletto giudice ma l'ordimento giudice tramite elezione e soltanto nel momento in cui la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime le soluzioni di solito sono due e di solito sono o che si annulla definitivamente il caso oppure il giudice sceglie lui di solito quando la giuria non raggiunge un verdetto unanime l'imputato viene prosciolto ed è per questo che si evita che la giuria venga corrotta dall'imputato perché se io vado a corrompere la giuria e faccio sì che un giurato non sia unanime nel verdetto posso diciamo far annullare l'intero processo quindi questo diciamo è stato un film molto bello per quanto riguarda la mia materia se volete guardarlo guardatevelo tra serie tv che ho finito e Lizzie Borden allora parliamone allora Lizzie Borden è tratto da una storia vera allora l'ho scelto perché ho visto Cristina Ricci io adoro Cristina Ricci dopo che ha fatto il mercoledì nella famiglia Adams e dopo che ha fatto i misteri di Sleepy Hollow io adoro Cristina Ricci ovviamente fa la stessa parte di mercoledì la stessa parte che Hans e Piolo questa parte un pochino inquietante questa volta molto molto inquietante e tratto da una storia vera di questo personaggio Lizzie Borden vissuto a metà dell'ottocento e che venne accusata dell'omicidio del padre e della madre tanto che c'era una filastrocca popolare e che veniva cantata dai bambini uccisa appunto a colpi d'ascio suo padre 40 e a 41 sua madre non si sa bene il perché ma quello che diciamo pose scalpore sulla vicenda fu il fatto che Lizzie Borden nonostante venne ritrovata piena di sangue ed era l'unica presente nella casa insieme alla governante la vecchia governante venne assolta in quanto i periti dell'epoca dissero che una donna minuta come lei non poteva essere in grado di poter colpire così tanto volte una stessa persona voi però contate che i due soggetti padre e madre dormivano al momento del fatto comunque quindi è una storia vera che però finisce qui nel senso che la vera storia di Lizzie Borden fu che venne accusata di questo omicidio e venne assolta rimase una reglietta perché viveva in un paesino e rimase aditata come diciamo quella che aveva ucciso i suoi genitori e aveva ereditato un patrimonio allucinante non si sa tutt'oggi se sia stata lei o meno l'assassina dei suoi genitori però una cosa che traspare anche poi dalla serie tv che era certa era il fatto che lei adorasse gli animali nel senso che lei anche nella serie tv ad esempio lei attacca le persone che fanno del male attacca un po' di tutto perché sembra nella serie tv è stata un pochino diciamo esagerata la figura di questo personaggio storico perché nella serie tv Lizzie Borden ammazza non è che ammazza le persone che le danno fastidio o che le intralciano usando il classico veleno alla alla borgia i veleni diciamo ma lei praticamente preferisce le armi bianche quindi tutto il fila la serie tv è molto molto aiutatemi a dire molto splatter sembra che l'abbia girato Quentin Tarantino ci sono schizzi di sangue ovunque che vanno avanti per delle ore tu dici ma è possibile che sia così veramente e una cosa che colpisce stavo dicendo e traspare anche poi nella serie tv è il fatto che lei adorasse gli animali chiunque toccava un animale o faceva male ad un animale faceva una brutta fine di solito veniva recisa la carotide o la giugulare o l'arteria femorale o scolpita da sciate pugnalate altre cose poi appunto questo nella serie tv nella realtà lei è stata accusata soltanto dell'omicidio dei suoi due genitori e di un piccolo furto che poi lei ha confessato e ha lasciato poi tutto i suoi averi alla lega per gli animali quindi il fatto che lei adorasse gli animali è un dato di fatto per quanto appunto non sia rilevante è una cosa che mi aveva particolarmente colpito perché poi appunto nel film nella serie tv si fa vedere quanto lei sembri una sociopatica poi non è così perché i sociopatici di base senza andare a etichettare o voler fare la psichiatra però in criminologia quello che ti insegnano è che il sociopatico di base appunto ripeto senza voler poi etichettare perché poi ci sono varie tipologie di sociopatici e tutto però di base il sociopatico è quello che non prova empatia e inizia facendo del male agli animali quindi senza voler fare la profiler o tutto però di solito succede così e nella serie tv Lizzy Borden viene presentata come una sociopatica nel senso che non si fa problemi a far del male a qualsiasi persona si frapponga tra lei e la sorella Emma addirittura ci sono delle scene in cui diciamo ci sono delle scene dove danno fastidio e anche là comunque ci sono dei momenti in cui lei utilizza l'omicidio nella serie tv a livello ludico nel senso mi dai particolarmente fastidio e quindi ti elimino oppure per una sorta di giustizia personale vedo che tratti male tuo figlio bene ti recido la carotide vedi sangue che inizia a schizzare ovunque tu guardi e fai ma veramente la storia era un po' diversa però l'ho voluto vedere perché mi è mi è piaciuto tantissimo poi Netflix fa tipo da droga nel senso che checa Netflix lo sa ti fa subito partire ti fa il countdown per l'altra puntata e sono soltanto otto puntate di unica serie che io vi consiglio perché a me è piaciuto adesso ho iniziato Dirk Lee Gently mi pare si chiami così con Elijah Wood che non invecchia e non so probabilmente Elijah Wood in realtà ha girato Harry Potter ha rubato la pietra filosofale e lui sta vivendo così Elijah Wood dalla anche a me per favore dalla resta spartisci la col resto del mondo avido e comunque e per adesso sono arrivata alla seconda puntata e non ha senso però mi sta piacendo questa cosa demenziale dell'investigatore olistico e dell'assassina olistica dove si basano sul fatto che il tutto è un flusso continuo e quindi non esistono le causalità ma tutto ha un suo percorso un suo perché è veramente strano ed emenziale però mi sta piacendo se qualcuno ha iniziato a vedere queste serie me lo faccio sapere e niente anche questa volta ho fatto un video lunghissimo che dovrò stratagliare ci vediamo la prossima volta con un altro video magari meno chiacchiericcio ciao